Uè! Non fare il pesce lesso! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Uè! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi anche oggi tante novità per quello che riguarda il futuro di Fortnite. Purtroppo tutti ci aspettavamo ieri l'arrivo del nuovo AK pesante. Non è stato così, pensavamo che come era successo per un paio di martedì fa con la fiocina venisse inserita l'arma senza dire nulla. Invece a questo punto è probabile che sarà introdotta nella patch 11.30 che tutti si aspettano per martedì prossimo. Nel video di oggi però parleremo della storyline della season 1. molti degli utenti dei vari forum di Reddit su YouTube e in giro parlando di Fortnite hanno tirato una conclusione molto molto interessante che voglio condividere insieme a voi. Ma parleremo e vedremo anche un video di come poter salvarsi se un avversario ci distrugge una costruzione molto alta. Purtroppo non ci sono in game oggetti che ci permettono di salvarci e di solito quando cade una struttura siamo destinati a crepare. Però forse non è così. È ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. Prima comunque volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno passano a salutarmi in live su Twitch dalle 8 alle 18. Grazie mille ragazzi per il vostro supporto e grazie mille a tutti quelli che usano il mio codice XIODERONE. Mi raccomando ragazzi iscrivetevi ai canali e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video. Ma prima, e io ve la devo fare la domandina ragazzi mi rispondete sempre in tantissimi qua sotto nei commenti domandina di oggi che è veramente di una semplicità estrema. Ma te, per chi hai votato? Eh sì, per la terza volta torna lo shop a votazione con tre skin tutte e tre diverse, una tizia che mi sembra un po' riciclata il maestro Zen e il profilattico. Io ragazzi ho votato il profilattico veramente meraviglioso che gli parte da su e non si sa dove va a finire quel coso quel passamontagna mi piace un botto mi fa ridere un botto e quindi ho votato lui. Dimmi invece tu perché hai votato? Qua sotto nei commenti. Ma quindi, ciancio alle bande! E bando alle ciance andiamo subito subito a vedere un piccolo aggiornamento per salva il mondo. Abbiamo il Marauder Launcher mi sembra che si chiami per tutti gli amici che giocano a Save the World Metal Marauder si chiama quindi fa parte del set Black Metal utilizza questo nuovo Black Metal Launcher una specie di lancia granate utilizza gli esplosivi ad una lunga distanza per fare danni a gruppi di nemici sarà disponibile per lo shop di Salva al Mondo dal 27 novembre quindi oggi fino al 4 dicembre per questo ragazzi se siete giocatori di Salva al Mondo un oggetto che sicuramente non potete perdervi. E andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi si parla ancora della schermata di caricamento e soprattutto di lui l'agente del caos questa schermata di caricamento sta parecchio facendo parlare i vari leakers sui vari forum come vi anticipavo ad inizio video perché in realtà è forse una vera e propria mappa per quello che riguarda la storyline di questa prima season del capitolo 2 ci sono tanti elementi che vanno a caratterizzare appunto queste immagini a partire ad esempio dalla schermata da quella televisione che mostra appunto i vari lati negativi che in questa season stanno ovviamente avendo un ruolo importante ogni skin del pass battaglia ha un suo alter ego e l'alter ego in sé è appunto una delle parti fondamentali di questa storyline forse mossi gestiti dalla gente del caos ma un'altra cosa molto interessante è presente in questa schermata in quello schermo che vi indico con la freccia blu c'è ovviamente il più grande mistero che dallo start di questa season ci accompagna ed è la porta di ferro sotto la montagna non ne parla nessuno perché nessuno sa in realtà che cosa nasconda però è mostrata di nuovo in questa schermata di caricamento ed è e ha senso pensare che qualcosa possa molto presto succedere e per chiudere ragazzi le coordinate quindi andiamo anche a riparlare della skin segreta in arrivo questo giovedì la skin sorana ci sono le coordinate che avevo già detto nei video precedenti che stanno ad indicare i punti esatti dove poter recuperare gli oggetti dell'outfit che mancano alla skin quindi piccone e zaino tra l'altro proprio sulla destra della gente del caos c'è il monumento di Kevin che è un altro punto importante dove si otterrà l'XP drop insomma ragazzi tanto mistero su questa storyline qualcosa sta cominciando a venire fuori staremo a vedere ovviamente quello che scopriremo e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi una bellissima immagine che viene presa dalla creativa cosa vi voglio mostrare in queste immagini innanzitutto nella parte in alto c'è il giocatore come vedete qua sotto invece è stato distrutto quindi è rotta la base beh ragazzi esiste un modo e tra l'altro mi sembra lo utilizzi MIT tra le altre cose per riuscire a salvarsi da una caduta così alta come quella che stiamo vedendo in questo momento vi voglio riportare al video in sé e lo vediamo insieme ragazzi come vedete lui ha appena sparato lo sta facendo vedere in creativa ha appena sparato un rocket come se stesse simulando che un avversario ci abbia distrutto la base se voi dall'alto andate e ora se ve lo faccio vedere vedete che si è salvato guardate lui adesso tira giù il rocket ma lui va ad editare il pezzo più in alto guardate editando il pezzo più in alto come ha fatto in questo momento vedete che sia da sotto che da sopra la torre la struttura si rompe questo vuol dire che si riesce ad arrivare ad un punto come in questo caso che vi permette di subire danno ma non di crepare lui è riuscito a mettere giù due muri e due piattaforme e non subisce danno è pazzesca questa cosa ed è intelligentissima lui di nuovo vi fa vedere che tira giù un rocket da qua appena tocca terra va a modificare e come vedete sia da sopra che da sotto si rompe la struttura ma lui riesce nuovamente a mettere due muri uno sopra l'altro e un pavimento e ragazzi vi potrebbe anche cambiare la partita lo fa rivedere per l'ultima volta da un'angolazione un po' più familiare che è quella appunto di gioco alle spalle del nostro personaggio come vi stavo appunto dicendo poco fa la struttura è veramente altissima mano all'rpg giù un colpo preciso e non appena sente che si spezza la struttura lui va a modificare come vedete il personaggio cade e riesce a non morire perché siamo veloci a buildare nel momento esatto insomma ragazzi una tecnica che io vi consiglio assolutamente di imparare perché è veramente fondamentale per poter uscire da situazioni spiacevoli anche perché purtroppo non esistono nessuno non esiste nessun oggetto che ci permetta di salvarci da queste altezze insomma ragazzi anche per oggi tutte le news io ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel polliceone in su iscrivetevi ai canali noi ci vediamo in live alle 8 su twitch ciao 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 Grazie a tutti.